Ciao ragazzi, tornato a Milano dai miei viaggi, ho avuto modo di incontrare Alessandro Benetton e fargli qualche domanda. Alessandro dopo la laurea ha lavorato due anni in Goldman Sachs, ha conseguito poi un MBA ad Harvard e poi tornato in Italia dopo varie vicissitudini, ha fondato la propria azienda 21invest, un tipo di società di investimento che si chiama private equity ed è molto particolare, quindi è proprio di quello che parleremo. E mi raccomando mettete un bel mi piace se volete vedere altri video del genere. Buongiorno Alessandro! Buongiorno. Volevo farti un sacco di domande e una cosa che a me preme tantissimo è la questione università. Io non ho fatto l'università, ho finito scuola che già facevo video. Anche questa è una scelta. Esatto, era già un lavoro bene o male per me, ho subito iniziato a lavorare però con molti regrets e una cosa che proprio mi è rimasta era il pallino di Harvard, perché tra l'altro adesso su YouTube ci sono un sacco di studenti di Harvard che documentano la loro vita di Harvard su YouTube. Volevo chiederti come mai sei andato ad Harvard, com'è successo? Beh, è successo perché era un percorso quasi dovuto per chi era stato in una grande banca d'affari come era capitato a me dopo l'università. Soprattutto a quel tempo era un po' la più identificata in un percorso accademico che poi aveva dei risvolti pratici. Nel senso che uno che passava per Harvard poi aveva tante aziende che lo volevano, tante aziende interessate a quel tipo di professionalità e quindi insomma erano due anni di approfondimento perché in realtà si prevedeva che ci fosse già stata un'esperienza lavorativa. È fatto l'NBA, giusto? È fatto l'NBA ad Harvard. Queste classi ad Harvard in realtà sono formulate in maniera tale che si riproduca un insieme, una comunità completa. Quindi c'è qualche straniero, c'è delle persone da provenienze diverse, c'è chi viene dal mondo militare, c'è chi viene dal mondo accademico, c'è chi viene dal mondo delle esperienze lavorative, del marketing, della finanza e della comunicazione. Quindi in realtà è il primo esempio, è l'avvicinamento al mondo del lavoro, in che senso dibatti su dei casi pratici che avvengono o che erano già avvenuti e ti confronti con gli altri. Quindi impari che oltre all'aspetto accademico, oltre alla praticità delle regole, ci sono però anche l'importanza del dibattito, la capacità di convincere gli altri, il rispetto dell'opinione altrui, ma soprattutto quello di creare delle atmosfere, dei momenti in cui le decisioni vengono prese in maniera collattiva e con la consapevolezza che ci sono anche più di una soluzione. E questo è il miglior percorso nella loro mente, che adesso è stato abbracciato anche da tanti altri, per avvicinarsi al mondo del lavoro. No, noi vediamo anche in Italia, dove sicuramente dal punto di vista dell'Accademia sono uscite di recente delle statistiche molto interessanti, che fanno vedere che oggettivamente le nostre università, le nostre scuole non hanno niente da invidiare. Io sono tra quelli che sostiene che i nostri studi classici siano la migliore base di partenza anche per il mondo che ci aspetta nel futuro, dove ci sono tante incognizie, tanti punti interrogativi, poche sicurezze. Chi meglio degli antichi, che non aveva nessuna informazione, sa come affrontare un futuro di questo tipo. Detto questo, poi però dobbiamo anche ricondurlo alla pratica. Questo senso di pratica è quello che ha abbracciato prima di tutti Harvard, e forse proprio per quello è diventata un'istituzione particolarmente riconosciuta in tutto il mondo. Per me è stato fondamentale quel passaggio. Per riassumere, ti volevo chiedere, di quello che sei riuscito a portarti a casa da questa esperienza, cosa che ti è servito maggiormente per quello che fai adesso? Guarda, quello che mi è servito maggiormente è stato, che ho capito, ho studiato con un professore che è diventato poi... Michael Porter. Michael Porter. Michael Porter è diventato, allora, pensati, la storia è molto curiosa perché era un ricercatore di avanguardia e sembra che quasi quasi lo volessero mandare via. Lo mandavano via perché non stava pubblicando niente. In realtà lui stava accumulando una serie di dati infiniti e potremmo dire che è stato uno dei primi anticipatori del Big Data Analysis. Cosa ha fatto lui? Lui ha studiato il comportamento delle aziende in alcune fasi evolutive con una prospettiva diversa rispetto a quella classica. Allora stiamo parlando della fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90. Qual era il sistema classico per studiare o pensare all'impresa? Era quello di dire tu sei del settore della chimica, hai delle peculiarità, sei del settore dell'abbigliamento, ne hai delle altre. Lui per la prima volta, in senso antropologico, dice ma proviamo a guardare cosa succede alle aziende quando arrivano a dei vidi di tipo tecnologico, di tipo evolutivo, di misura. Tanti comportamenti di queste aziende erano uguali nonostante i settori fossero completamente diversi. Quindi si è messo a studiare un numero di casi enormi e è arrivato a una conclusione, è arrivato alla conclusione di un teorema che è il teorema che determina il grado di competitività e le azioni che caratterizzano la competitività delle aziende. Mi sono portato a casa da Harvard in modo di ragionare, cioè quello di dire al centro dell'impresa c'è l'uomo con le sue caratteristiche, vuol dire che tu puoi trovare delle analogie in situazioni e settori diverse, usando quella che io chiamo l'intelligenza laterale o i punti di osservazione laterali, perché in realtà le cose possono essere scomposte, potevano, oggi è più ovvio a tutti quanti, soprattutto appunto attraverso e grazie al Big Data Analysis, ma allora all'inizio degli anni 90 non lo era. Quali sono i vantaggi secondo te di intraprendere un percorso universitario? Prima di tutto se qualcuno, mi sembra che questo sia il tuo caso, già identificato un filone che ti interessa, che ti porta a migliorarti, che ti sta dando soddisfazione, in cui vedi crescita e vedi la possibilità insomma di capitalizzare su questa iniziativa, non mi fermerei mai, cioè non fermerei mai una cosa che funziona e sta crescendo per fare qualche cos'altro. Non mi precluderei neanche però la possibilità di farlo nel momento opportuno, di solito questo vale quando c'è una sorta di cambio di ciclo, vale sicuramente la pena soprattutto quando si è predisposti a trarre il meglio. Il meglio che cos'è? Il network che si genera da queste partecipazioni a queste frequentazioni perché in ogni caso ci si incontra con degli altri individui che vengono da posti diversi del mondo, che hanno esperienze diverse. È uno stato di recente a Yale che sempre di più sta cercando proprio di fare dello studio una sorta di rapporto sia accademico tra studente e insegnante ma anche partecipativo nel senso che si richiede a chi arriva di avere delle idee, di avere delle opinioni, di fare delle ipotesi su come sarà il mondo. Questo sistema classico di vedere qualcuno sul pulpito, solo la cattedra, che insegna non è completamente moderno più, no? Forse si torna agli antichi greci in cui i filosofi camminavano attorno agli studenti e attorno a chi voleva ascoltare e c'era un'interazione molto attiva. So, ho letto fondamentalmente che hai lavorato due anni da Goldman Sachs come analista. Come mai? Ti divertivi? Allora intanto Goldman Sachs due anni di analista vuol dire che preparavo il caffè, facevo le fotocopie e lavoravo fino alle 3 del mattino. Scherzi a parte, ci sono due ragioni per cui questo avvenito. Prima di tutto, e oggi è ancora più valido per chi fa l'MBA, proprio perché si vuole rendere più pratico possibile questa discussione dei casi, è richiesto che ci siano parecchi anni di esperienza lavorativa post-universitaria. Allora ne bastavano due, come era il mio caso, oggi mi dicono che ce ne vogliono anche di più, proprio per arricchire la discussione. A me è toccata la Goldman Sachs, allora la finanza stava diventando importante, mi appassionava, mi divertiva, ma sotto 89? 87, 88, 89, ma soprattutto è stata un'esperienza fortemente formativa per me perché ho imparato il valore dell'organizzazione. Alla fine è più tipico che ci siano delle aggregazioni, vediamo, pensiamo che le più grandi società del mondo non hanno più degli asset fisici, no, questo era assolutamente non immaginabile negli anni 80-90, cioè che qualcuno che non aveva degli asset fisici potesse essere la più grande società del mondo. Gli unici che un po' si differenziavano in queste 6 erano le società di servizio, appunto la Goldman Sachs, le società di finanza, di consulenza, di gestione patrimoniale, che avevano come grande capacità quella di organizzare tante persone assieme, non attorno a un asset fisico. Quindi là ho appreso il valore dell'organizzazione, no? Come si riesce a convincere il gruppo a muoversi in maniera coesa, come non si perde l'iniziativa del singolo e lo spirito intraprendente del singolo senza andare a discapito del valore dell'organizzazione e del coordinamento complessivo. Quindi è stata un'esperienza straordinaria. Tu calcola che allora la Goldman Sachs negli anni 80-90 le banche d'affari in Europa americane non c'erano. Oggi governano completamente questo mercato, ma negli anni 80-90 c'erano qualche banca, praticamente una banca italiana, qualche banca tedesca, parecchie banche inglesi, qualche banca francese, erano il cruceria delle grandi operazioni finanziarie. Anche questa è una cosa da ricordare, negli ultimi 30 anni il panorama è completamente cambiato. De facto il mercato è governato dagli americani. E quindi adesso passiamo a quello che stai facendo adesso, ormai da 20 anni in realtà, da parecchio tempo. Ahimè quasi 30. Hai aperto un fondo di investimento, un private equity. Sì. Volevo chiederti, anzi prima di tutto spiegarmi cos'è di preciso un private equity e poi volevo chiederti come mai hai deciso di aprire questa attività. Allora quando l'ho aperto all'inizio degli anni 90 praticamente era la prima attività di questo genere in Italia. Era nata in realtà negli anni 60 negli Stati Uniti. Si tratta di società che si mettono in mezzo tra chi vuole investire nel mondo dell'industria o delle società e le aziende stesse. In altre parole una forma di proprietà subordinata. Cosa vuol dire? Arriva qualcuno, ti dà dei soldi, tu prendi questi soldi, compri delle aziende, provi a farle andare. Aziende che non sono quotate in borsa, giusto? Aziende che non sono quotate in borsa, assolutamente sì. In alcuni casi possono essere anche dei pacchetti di aziende quotate in borsa che poi insomma vengono utilizzate per fare il cosiddetto delisting per cui togliere dalla parte. Si chiama private equity proprio perché è privato il capitale e quindi non c'è la quotazione in borsa perché è una buona alternativa ad alcuni limiti che le quotazioni richiedono alcuni volti. La burocrazia intesa come la compliance, le regole da rispettare. Ecco il private equity si può muovere come un operatore privato quindi in maniera molto più snella. Private equity quindi è una società che sta in mezzo tra chi vuole investire il capitale nell'impresa e l'impresa stessa. Ci si mette in mezzo, si ha in dote del denaro che viene investito, la durata è dai 10 ai 12 anni a seconda delle circostanze, si comprano le società, si cerca di gestirle molto meglio rispetto a quello che era precedentemente o in ogni caso si propongono dei cambi di paradigmi come il caso di 21 Invest, la mia società, le si rivende, questo cumulo di portafoglio che possono essere 7, 8, 10, 12 partecipazioni e una volta che le si sono vendute dopo aver creato valore il capitale si restituisce a chi ha investito e una parziale quota del guadagno invece viene tenuta da chi ha lavorato in questo caso dall'operatore di private equity, una percentuale, una success fees vogliamo mettere, si chiama tecnicamente carried interest, una volta che ho ripagato gli interessi, il capitale rispetto a chi ha investito negli anni l'80% generalmente, questi sono i parametri, viene dato a chi ha investito il capitale e il 20% del guadagno rimane a chi ha fatto la cosa, a chi l'ha gestito. Quindi non sono i risparmiatori diciamo privati a investire in un private equity ma sono persone con tanti capitali, giusto? Generalmente sì, anche se ci sono magari dei piccoli fondi in cui qualcuno in termini privati può partecipare, però generalmente nel settore, un settore che è diventato enorme, ha fatto sì che gli investitori diventassero sempre di più istituzionali, per gli istituzionali si tende i grandi investitori che possono essere i fondi pensioni, le compagnie assicurative, le banche. Quindi se ci sono dei fondi comuni di investimento che investono in un private equity, vuol dire che se io sono un privato che ha investito in un fondo comuni di investimento, in piccolissima parte sto investendo nel tuo private equity? È possibile, a seconda del profilo di rischio che tu scegli quando metti in gestione il tuo denaro, è possibile che chi te lo gestisce ti dica anche, vuoi che una parte del tuo risparmio venga messa nel private equity? Adesso volevo chiederti un'altra cosa, cosa che ti ha spinto a farlo e anche in che modo è connesso a quello che hai studiato ad Harvard o all'università? È stato fatto proprio di conseguenzialità, praticamente è un po' quello che raccontavo prima. Avevo imparato un nuovo paradigma, un nuovo modo di approcciare le cose che era quello di guardare a dei settori, a delle aziende, non solo come dei settori specifici ma utilizzando l'esperienza che veniva da altri settori, quindi ragionare in maniera laterale. Quello che avevo appunto capito che era stata la base del ragionamento di Michael Porter. Torno in Italia, penso che mi devo occupare di alcune attività di famiglia, scopro che proprio queste attività di famiglia, volevano seguire un ragionamento molto più classico, appunto il ragionamento settoriale e quindi insomma penso che sia stato il momento in cui ho scoperto di essere un imprenditore per i fatti miei e ho detto ma io quasi quasi invece provo la strada di cui mi sono convinto durante questo periodo di storia. Sono partito con delle cose molto piccole per comprovare che tu puoi aggiungere il valore a certe imprese apportando esperienze avvenute in altre circostanze. In che modo lo fate? Avete una strategia diciamo comune? Diciamo che per noi è diventata, ci sono varie teorie, per tanti anni questi settori sono stati aiutati dal debito a basso costo per cui uno poteva indebitarsi parecchio e creare un ritorno proprio perché con la leva finanziaria le cose insomma si ripagavano da sole. Il mercato è diventato negli anni molto più competitivo, noi a questo non l'abbiamo mai sposato, noi abbiamo sempre sposato il teorema dell'industria. Si crea valore perché cresce il fatturato, crescono i margini, cresce l'occupazione, quindi noi abbiamo i fondamentali e noi abbiamo anche sempre sposato i fondamentali di tipo sociale e economico di cui magari poi ti dirò qualche cosa perché è una tendenza molto importante per il futuro. Quali sono le strategie? Fammi dire un esempio, noi siamo entrati per esempio nel settore delle sale cinematografiche in un momento in cui sembrava che tutto questo mondo dovesse morire. Passati DVD ma insomma c'erano le nuove tecnologie, il pay per view, insomma uno poteva affittarsi il film, guardarselo sul telefonino, guardarlo a casa, sembrava che le sale cinematografiche sarebbero sparite. Noi invece abbiamo intercettato quello che era l'aspetto sociale dei giovani, ci siamo accorti dai mercati più evoluti negli Stati Uniti in cui la sala cinematografica rappresentava qualche cosa di più. I giovani che si ritrovavano e che quindi potevano anche andare a un ristorante o a mangiarsi un hamburger, stare assieme, un'occasione per comprare dei gadget, per avere anche dei videogames e su questo tipo di intuizione abbiamo detto perché non proviamo a consolidare il mercato italiano. Il mercato italiano allora era fatto da operatori come Berlusconi con Medusa, Time Warner che aveva anche lui la sua società, poi da tanti piccoli operatori molto frammentati e questo permetteva in un settore in cui l'incidenza del costo dei film, cioè tu quando apri una sala cinematografica il 50% dei soldi che devi spendere devi pagare i diritti a chi ti dà il film e ci siamo accorti che qui il mercato italiano proprio perché era molto frammentato pagava di più che altri mercati. Quindi partendo da queste due intuizioni abbiamo pensato che consolidando un settore dove non si guadagnava molto, investendo sulle nuove tecnologie, per esempio il satellitare, quindi il satellitare voleva dire che io potevo portare al sabato mattina l'opera da New York e quindi occupare degli spazi che venivano utilizzati solo per i film dalle 5 di pomeriggio a mezzanotte anche durante la mattina, piuttosto che le partite per la tua squadra quando giocava fuori casa, dei documentari per i ragazzini e formativi per la scuola e quindi si poteva capitalizzare su questo traffico dicendo allora il food può essere una fonte di ricavi, gli accessori possono essere una fonte di ricavi, altri prodotti televisivi, diciamo da schermo possono essere una fonte di ricavi, potevamo avere più muscoli a quel punto con una massa critica più importante siamo andati dalle major americane e gli abbiamo detto noi non vogliamo più pagare di più rispetto al mercato francese, al mercato inglese, al mercato tedesco, perché avevamo bravissimo, avevamo più potere negoziale e quindi potevamo permetterci insomma di far vedere un approccio un po' più muscolare, quello è stato un settore in cui siamo partiti con una società aggregata che faceva un milione di EBITDA, per chi non sa l'EBITDA è il margine lordo, quando l'abbiamo venduta nove anni dopo, otto anni dopo aveva un EBITDA di 15 milioni quindi avevamo per 15 volte aumentato la redditività. Noi ci siamo specializzati nel cambiamento, quella che noi chiamiamo discontinuità, discontinuità che in questo caso era di tipo strategico, in altri casi perché aggreghi, per cui abbiamo tanti altri casi, penso al caso di Pittarello che è diventato Pittarosso, abbiamo cambiato un marchio e abbiamo applicato il primo modello di business fast fashion alle scarpe, nessuno l'aveva fatto precedentemente, quindi una cosa di cui sono sempre particolarmente orgoglioso e tengo a sottolineare è che nel fare tutto questo noi abbiamo sempre mediamente raddoppiato i fatturati delle società, raddoppiato durante questi cicli l'utile se non addirittura triplicato in alcuni casi, ma abbiamo sempre come minimo raddoppiato anche l'occupazione. E questo è importante perché spesso il metodo classico è licenziare tutti. Bravissimo, una parte per alcuni di creazione di valore negli anni è stata quella di tagliare i costi e metterci debito dentro le aziende, noi abbiamo dimostrato in 30 anni di storia che abbiamo sempre avuto degli ottimi ritorni, facendo un lavoro bene, molto industriale. Oggi siamo super eccitati dalla prossima formula che ci aspetta. Sempre con Michael Porter siamo stati il primo fondo di private equity a partecipare a questa sua nuova iniziativa che si chiama Shared Value. Cos'è lo Shared Value? È un modo di guardare l'impresa innovativa in cui sostanzialmente si dice che il consumatore di domani, tra 10 anni, tra 15 anni, potrà accettare solo delle imprese che abbiano tenuto in considerazione nel loro modo di operare, nel loro creare ricchezza, tenuto in considerazione le esigenze di tutti. Non sono solo gli azionisti che devono guadagnare, devono essere i dipendenti, devono essere le comunità locali, i figli dei dipendenti, deve essere l'ambiente, devono essere i fornitori, devono essere i clienti. E quindi noi abbiamo incominciato ad applicare questo, che una volta veniva visto come un costo. Fammi dire un esempio. Tra le nostre partecipate, che sono andate molto bene, ce n'è una che si chiama Forno d'Asolo, società leader in Italia che abbiamo fatto diventare leader nella distribuzione delle brioche surgelate. Per dire, questa era una società, nelle bellissime, si chiama Forno d'Asolo perché è ad Asolo, perché non c'è mai stato, dovete andarci. E c'era questa fabbrica molto, molto industriale, in questo luogo bellissima. Noi abbiamo deciso di fare un investimento per creare una sede stupenda, che valorizzasse e continuasse a valorizzare il territorio. Quindi apparentemente un costo che non ti dà un ritorno. Abbiamo poi pensato anche di fare una scuola di formazione, che si chiama Academy, pensando che i figli dei dipendenti e le comunità locali potessero avere una scuola gratuita, fatta in associazione tra noi e le scuole alberghiere del Veneto, per fare un centro di formazione per dei giovani che possono lavorare nel settore. Abbiamo fatto questa cosa che è diventato un grandissimo successo. Il risultato è stata grande gioia, grande soddisfazione da parte della gente che lavorava dentro l'impresa. Comunità locali hanno risposto molto bene, per cui qualunque dei bar della zona che non comprava Forno d'Asolo ha detto, ma questi qua stanno rendendo l'ambiente più bello, il luogo più bello. Investono sui nostri figli, tutti dobbiamo comprare questi prodotti. E non era una cosa che avevamo pensato. In altre parole abbiamo dimostrato che pensare agli altri, pensare alla comunità all'orgare crea valore per tutti quanti. Questo è un nuovo modo di guardare l'impresa. Infatti è interessante perché molto spesso invece, con il fatto che è visto come un costo, si fa il contrario, si distrugge l'ambiente magari o si rovina la comunità. Bravissimo. Sei tanti anni fa io ho incontrato Al Gore, il vicepresidente americano. Tutti conoscono perché insomma poi lui ha portato avanti questa sua crociata che riguarda l'ambiente in tempi non sospetti. E lui mi ha detto una frase che è stata una rivelazione per me. Ha detto noi dobbiamo arrivare al momento in cui fare del bene è conveniente. Ci dobbiamo accorgere che la filantropia va bene. La corporate social responsibility, cioè la responsabilità di impresa come diciamo regole da rispettare va bene, ma non sono sufficienti. Dobbiamo immaginarci un modo di fare le cose in cui all'impresa conviene fare le cose bene. Mi ricorda molto anche l'egoismo altruistico. Cioè per avere un ritorno maggiore anche solo per me stesso ho bisogno che tutte le persone stiano bene. È fondamentale e noi su questo abbiamo capitalizzato in maniera involontaria. Se qualcuno aveva deciso o decide domani di venderci la sua azienda perché pensa che c'è bisogno di un rinnovo manageriale, una nuova linfa, più coraggio, più discontinuità, più innovazione, più sviluppo, più partnership internazionale e lui non se la sente perché lui ha portato l'azienda fino a quelli vendoli, la c'è da noi. Allora, qual è il tema? Che se lui guadagna un sacco di soldi ma finisce per continuare a vivere nella sua comunità in cui ha fatto l'azienda, in cui questo gesto impoverisce gli altri, beh lui non sarà mai felice. E quindi per noi abbiamo, per esempio, per noi è stato un vantaggio proprio perché abbiamo sempre investito su questo concetto dell'impresa, questo concetto appunto di essere attenti agli interessi di tutti quanti, tante volte a parità di condizioni veniamo scelti in modo proprio perché siamo garanti di questo tentativo, di questa consapevolezza che il benessere deve essere condiviso. Come mai proprio le medie imprese? Magari non le start-up o investire in imprese più grandi? Beh allora, per quanto riguarda l'Italia, l'opportunità l'ho vista subito nella media impresa perché prima di tutto il 90% del prodotto nazionale lordo è proveniente da quel settore, quindi qua è dove siamo proprio ricchi. La media impresa e non il venture capital perché il venture capital invece richiede prima di tutto un altro tipo di ambiente culturale, no? Non è più quello che poteva essere 20-30 anni fa che uno ha un'idea delle connotazioni tecnologiche, ha delle fasi evolutive diverse, per cui tante volte uno parte da un'idea, la porta a uno stadio, poi passa la mano e la staffetta a qualcun altro che la porta allo stadio seguente. In altre parole hai bisogno di un ambiente che sia già collaudato ed evoluto e l'Italia non ha, sfortunatamente non ha questo tipo di caratteristica. Ogni tanto capitano dei casi, è un dato di fatto, ma sono casi piuttosto orari. L'ecosistema delle start-up ci vuole molto pazienza perché avvenga. Poi insomma ogni paese così come ogni azienda deve avere una propria strategia. Va benissimo che ci siano queste iniziative, però dov'è che noi siamo bravi? Siamo bravi invece nella media impresa dove c'è un contenuto di tipo manufatturiero, dove c'è un contenuto di artigianato, dove c'è un contenuto di sapere metterci quell'ingrediente che riguarda il bello e il buono, dove noi siamo sicuramente i più bravi al mondo. Ultima domanda prima di dileguarci, quale consiglio daresti a una persona come me o che sta avvenendo il video, diciamo, della mia età? Cogliere le opportunità. Si dice che la fortuna è il momento in cui l'occasione incontra il talento. No, qualsiasi cosa, poi c'è chi è più fortunato, che è meno fortunato, però una cosa è sicura, ci si migliora non creando delle barriere, conoscendo, viaggiando quando è possibile, esponendosi, prendendosi qualche rischio, vendo il coraggio di capire che tante volte anche un passo indietro è utile per fare dei passi in avanti. Se a qualcuno è venuta qualche idea, come è successo a te, portala avanti fino in fondo, abbi coraggio, non essere timido. Una cosa ho imparato, quando sei giovane ti danno consigli sempre gratuitamente, trovi sempre, non voglio dire un business angel, ma qualcuno che è contento che tu abbia successo. Man mano poi che la vita va avanti scopri che questo non dura. Cogliere l'occasione anche di una fase della proprietà in cui possono prendere dei rischi, insomma, si possono fare degli errori, cercare sempre che non siano errori mortali, non siano errori gravi. E un'altra cosa da non dimenticare, può sembrare meno pratica, ma ci credo in maniera forte, e poi a fine ognuno di noi le grandi decisioni le prende per motivi di emozioni, quindi seguire anche le proprie emozioni, la propria pancia, perché tante volte quel tipo di energia fa la differenza. E se qualcuno per caso, per fortuna, è il tuo caso, hai avuto la pancia, l'intuizione, seguile a fine in fondo. Capiterà poi l'occasione di un nuovo ciclo universitario o... bene, te lo sai conquistato e sarà un ulteriore tassello alla tua crescita, sono sicuro poi al tuo successo. Grazie mille per questo tempo. Grazie a voi. Bocca al lupo, eh. Grazie. Bene ragazzi, spero che vi sia interessata questa intervista con Alessandro Benetton, spero che si sia capito bene, che sia stato interessante anche il funzionamento di un private equity. Per me è stato un onore, un piacere ovviamente sentirmi dire da un insider quali sono un po' le strategie che vengono utilizzate da un private equity, in questo caso da 21invest. Ringrazio quindi un sacco Alessandro Benetton e ci vediamo con i prossimi video.